Ciao collega! Molti dei tuoi clienti che stanno cercando casa non sono nati nella tua città, provengono da altre città e per un motivo o per un altro si stanno trasferendo o vivono già da anni nella tua stessa realtà. Forse tu stesso, come me, non sei nato dove oggi vivi e stai lavorando e capisci ancora meglio il concetto che voglio trasmetterti. Per quanto sia il luogo dove si viene al mondo e dove siamo cresciuti è e rimane per sempre nel profondo la nostra casa. Spostarsi per alcuni è facile, per altri lo è molto meno, ma per tutti il ricordo rimane dove abbiamo vissuto i primi anni della nostra esistenza. Anche se oggi stiamo molto meglio dove stiamo. Le chiamano radici non per nulla. Al giorno d'oggi trasferirsi è molto più semplice di solo 100 anni fa. I mezzi di trasporto, l'assenza di barriere fra gli stati, una migliore conoscenza, sono tutti i fattori che hanno portato ad un più facile inserimento in zone dove non siamo nati. La scelta di una casa lontano da casa è ancora più difficile e delicata. Questi clienti spesso non conoscono la città come la conosci tu. Non sanno cosa vuol dire vivere in un quartiere piuttosto che in un altro. Si basano su sensazioni, su sentito dire e sulla tua preziosa consulenza se arriveranno a conoscerti. Uno degli effetti più importanti del video marketing immobiliare è proprio farti conoscere da tutta la popolazione. E qui hai una grande opportunità che molti non sfruttano neanche quando incontrano le persone dal vivo e non da dietro uno schermo del telefonino. Sii te stesso. Vederti e sentirti per come sei e non come un pinguino ingessato in giacca e cravatta che cerchi a tutti i costi di apparire come un professionista patinato fa la differenza. Ti rende avvicinabile. I video come sempre amplificano tutto questo. Lì, al di là dello schermo dove sei tu. Di qua invece dove sono io sembra sempre di esagerare. Ed invece non è così. Parla alle persone come fai tutti i giorni. Mettici in mezzo qualche battuta, un sorriso, una risata, uno scherzo, una frase in dialetto. Ciò che dici confermerà la tua alta professionale ma il come lo dici ti farà diventare avvicinabile. Ed è proprio ciò che vuole chi sta cercando casa lontano da casa. Ed entrerà nella tua agenzia chiedendo di te perché ha la sensazione di conoscerti già e di potersi fidare. Se mi stai seguendo, se hai già visto qualche mio video, stai già sperimentando questa cosa. Quando ci sentiremo al telefono o ci conosceremo di persona sarà più facile perché ci siamo già incontrati. Entra nel mondo del video marketing immobiliare e fatti conoscere in pochissimo tempo da tutta la popolazione della tua città. E chi cerca casa chiederà di te. Ciao! Grazie a tutti!